Ragazzi miei vi spiego il perché secondo me Nio sta parlando il 10% Prima di partire però vi voglio ricordare che se questo video qua raggiunge i 100 likes entro stasera Domani vi farò uscire il video in cui vi mostro 3 azioni da comprare a marzo Come sapete io ho 23 azioni di Nio quindi oggi non è una giornatona per me Però ho perso all'incirca 100-150 euro solo su Nio ma non è un problema Andiamo a vedere il perché secondo me c'è stato questo calo nelle azioni Non so se tutti lo sapranno ma ieri sera verso le 11 è uscita la trimestrale di Nio E vi ho segnalato quelli che sono secondo me gli aspetti chiavi da considerare Il primo è che ha avuto delle vendite di macchine di all'incirca 17.000 per quanto riguarda il Q4 2020 E per farvi capire nel 2019 nel Q4 aveva consegnato 8.200 veicoli Nel Q3 aveva consegnato all'incirca 12.000 veicoli Una cosa importantissima da guardare era il margine Infatti il margine di 17.2% avuto nell'ultimo trimestre secondo me è spaventoso Soprattutto considerando che il gross margin dell'anno scorso dello stesso quarter era il negativo Ed era all'incirca del 9% negativo Mentre nel Q3 era del 12.9% quindi un incremento assurdo del margine Ora però vi faccio vedere quello che effettivamente ha fatto crollare le azioni Ovvero sostanzialmente due cose Il primo motivo è di fatto che Nio non ha rispettato le aspettative degli analisti Infatti si aspettavano una perita di all'incirca 0.40 RMB per azione Mentre la perita è stata di 1.05 Mentre per quanto riguarda le revenues invece diciamo che hanno leggermente E dico leggermente perché di fatto è così Superato le stime degli analisti Però questo non è bastato Il secondo motivo è secondo me quello maggioritario è il fatto che l'outlook dell'azienda non è a mio avviso positivissimo Infatti si aspettano per il prossimo quarter all'incirca vendita per 20.000-20.500 veicoli Personalmente mi aspettavo leggermente di più Però se devo essere sincero secondo me è dovuto anche al fatto che a febbraio non se lo sapete ma c'è il capodanno cinese E quindi di fatto una settimana di febbraio praticamente tutte le aziende sono bloccate Molto sinceramente però mi aspettavo che Nio potesse consegnare anche più di 21.000 veicoli Però staremo a vedere L'ultima cosa che vi voglio dire è che per quanto riguarda il sottopatrimoniale Nio ha raggiunto una posizione netta in cash di circa 6,5 miliardi di dollari Che a mio avviso è positivissimo